gilbert kate chesterton l'uomo che fu giovedì storia di un incubo capitolo 1 i due poeti di saffron park il sobborgo di saffron park sorgeva a ponente di londra rosso e irregolare con una nuvola vespertina era fabbricato da capo a fondo di vivace mattone il disegno dei suoi tetti nel cielo era fantastico e il suo piano regolatore stravagante rappresentava l'ultima trovata di uno speculatore in costruzioni che definiva la propria architettura a volte elisabetiana e a volte regina anna probabilmente con l'impressione che le due sovrane fossero la stessa persona lo si conosceva come una colonia artistica e non a torto quantunque non avesse prodotto nessuna opera d'arte d'un genere definibile infatti se le sue pretese ad essere un centro intellettuale erano un po vaghe nienteva in dubbio che fosse un posticino singolarissimo il forestiero che vedeva per la prima volta quelle buffe case rosse non poteva a meno di dirsi che la gente che vi si adattava doveva essere ben strana ne restava deluso allorché la conosceva il luogo oltre che singolare sembrava addirittura perfetto appena appena lo si considerasse non come un insuccesso ma come un sogno infatti anche se gli abitanti non erano artisti l'insieme era certo artistico quel giovanotto dai lunghi capelli rossi e l'aria insolente non era un poeta in realtà ma certo un poema quel vecchio gentiluomo dal barbone bianco e il cappellaccio bianco quel venerabile impostore non era un filosofo ma certo causa negli altri di pensieri filosofici quel signore dalla testa calva come un uovo lo scarno collo nudo da volatile e l'aria da scienziato non poteva vantare il diritto alla scienza che sembrava arrogarsi non aveva scoperto nulla nel campo della biologia eppure quale creatura più rara di se stesso avrebbe potuto scoprire così e soltanto così doveva essere considerato quel luogo nel suo insieme non tanto come una fucina di artisti quanto come una fragile ma compiuta opera d'arte chi entrava nella sua atmosfera sociale aveva l'impressione d'entrare nel copione di una commedia questo attraente senso di realtà gravava su di esso in special modo sul far della notte allorché i tetti bizzarri si stagliavano contro l'ultimo rossore del crepuscolo e tutto quel pazzo villaggio sembrava distante e separato come una nuvola passeggera aspetto ancora più vivo assumeva nelle frequenti feste locali quando a buio i giardinetti venivano illuminati e i lanternoni giapponesi splendevano sugli alberelli come frutti ardenti e mostruosi e più che mai fu evidente una certa sera ancora vagamente ricordata sul posto l'eroe della quale fu il poeta dai capelli rossi non che ciò fosse un'eccezione tutt'altro più volte chi oltrepassava tarda ora il giardinetto dietro la sua casa ne udiva la voce squillante e cattedratica che esponeva la legge agli uomini e specialmente alle donne l'atteggiamento di queste ultime in tali casi era un altro dei paradossi del luogo la massima parte di quelle signore appartenevano al tipo vagamente detto emancipato e professavano qualche sentimento di protesta contro la supremazia mascolina eppure quelle donne nuove erano sempre disposte a rendere all'uomo l'omaggio stravagante che nessuna donna comune gli rende mai quello di starlo ad ascoltare quando parla e il signor lucian gregory il poeta dai capelli rossi era un uomo che in un certo senso valeva davvero la pena di stare a sentire non fosse altro per farsi alla fine una bella risata egli predicava con una certa insolente vivacità che dava se non altro un momento di spasso il vecchio luogo comune che l'arte è al di fuori d'ogni legge e che unica legge è praticare l'arte ed evadere da ogni legge era aiutato in ciò dalla vistosa stranezza del proprio aspetto che egli sfruttava come suol dirsi senza economia i suoi capelli di un rosso ardente divisi nel mezzo erano letteralmente quelli di una donna e fluivano in lente ondulazioni come le chiome di una vergine in un quadro pre raffaelita ma da quella cornice quasi angelica sporgeva brutalmente un grosso volto brutale dal mento proiettato in avanti con un'aria di sprezzo tutta cocnei questa combinazione stuzzicava e insieme atterriva i nervi di una popolazione neurotica egli sembrava una bestemmia ambulante una combinazione di angelo e di scimmia la sera di cui parliamo sarà ricordata se non peraltro almeno per il suo favoloso tramonto il cielo era coperto da un capo all'altro d'un immenso palpitante manto di piume avreste detto che ne fosse tutto pieno e che quasi quasi quelle piume vi sfiorassero il viso per la massima parte della cupola celeste apparivano grigie con le più strane sfumature di violetto e di lilla di rosa innaturale e di verde pallido ma verso occidente quel singolare ammanto diveniva una cosa ineffabile trasparente e appassionata e le ultime piume di un rosso ardente nascondevano il sole come qualche cosa di troppo bello per essere veduto e tutto questo era così vicino alla terra da dare l'impressione di una segretezza profonda e gelosa perfino l'empireo pareva un segreto simboleggiava quella splendida piccolezza che è l'anima del patriottismo locale il cielo stesso sembrava piccolo ho detto che alcuni abitanti del luogo ricorderanno quella sera non fosse altro che per quel cielo opprimente altri ve ne sono che la ricorderanno perché segnò la prima comparsa del secondo poeta di saffron park per molto tempo il rivoluzionario dalla chioma rossa aveva regnato senza rivali ma proprio quel tramonto la sua solitudine finì il nuovo poeta presentatosi col nome di gabriel saim era un mortale da saimite aspetto con una barbetta bionda a punta e i capelli d'oro pallido eppure si intuiva che dopo tutto doveva essere meno mite di quanto sembrava segnalò il proprio arrivo col differire dal poeta locale gregory sulla natura stessa della poesia disse che lui saim era poeta della legge poeta dell'ordine disse anzi che era il poeta della rispettabilità cosicché tutti gli abitanti del sobborgo lo guardarono con tanto d'occhi come se fosse piovuto proprio in quel momento da quell'impossibile cielo difatti lucian gregory il poeta anarchico mise in relazione i due eventi ben si addice gridò con improvviso slancio lirico ben si addice una simile sera di nubi e di accesi colori all'avvento sulla terra di un simile portento un poeta rispettabile lei dice ad essere un poeta della legge e io le dico che questa è una contraddizione in termini stupisco soltanto che non ci siano state comete nei terremoti la sera in cui lei è comparso in questo giardino l'uomo dai miti occhi azzurri e dalla barbetta bionda sopportò anche quei fulmini con una certa grave rassegnazione la terza persona del gruppo rosamond la sorella di gregory le cui chiome rosse come quelle del fraterno incorniciavano un volto assai più gentile rise con quel misto d'orgoglio e di disapprovazione che dedicava di solito al genio della famiglia gregory riprese con brillante vena oratoria l'artista e l'anarchico ma non c'è nessuna differenza i due termini si possono scambiare in tutto e per tutto colui che lancia una bomba è un artista perché preferisce un grande momento un'intera vita mediocre sa che un solo lampo di luce balenante un solo tuono perfetto valgono più dei goffi corfi di alcuni banali poliziotti l'artista disprezza tutti i governi abolisce tutte le convenzioni il poeta si inebria soltanto del disordine se così non fosse la cosa più poetica al mondo sarebbe la ferrovia sotterranea lo è dichiarò il signor sim che sciocchezza gridò gregory il quale era molto ragionevole quando qualcun altro si dava i paradossi perché gli impiegati i manovali nella sotterranea sono sempre così tristi e stanchi così terribilmente tristi e stanchi ne lo dirò io perché sanno che il treno va dove deve andare perché sanno che per qualunque luogo abbiano preso il biglietto a quel luogo giungeranno perché dopo aver oltrepassato slone square sanno che la prossima sarà la stazione victoria e nient'altro che la stazione victoria o qual giubilo sarebbe il loro o come brillerebbero i loro occhi come si berebbe l'anima del loro paradiso ritrovato se la stazione seguente fosse inaspettatamente quella di becker street è lei che è antipoetico ribatte il poeta sign se quello che dice degli impiegati è vero vuol dire che sono prosaici come la sua poesia toccare il segno ecco la cosa straordinaria miracolosa quella normale comune è di mancarlo agli occhi nostri epico è l'atto dell'uomo che con una sola freccia temeraria raggiunge un uccello lontano non è epico anche quello dell'uomo che con una macchina temeraria raggiunge una stazione lontana il caos è stupido e noioso perché nel caos sì che i treni potrebbero andare chissà dove a biker street come a bagdad ma l'uomo è un mago e la sua magia consiste in questo che gli dice stazione vittoria ed ecco qua è precisamente la stazione vittoria no no si tenga stretti i suoi libri di prosa e poesia pura io leggerò l'orario ferroviario con lacrime d'orgoglio si tenga pure il suo byron che commemora le disfatte degli uomini a me il bread show che ne commemora le vittorie o su a me il bread show è di partenza chiese gregory con sarcasmo l'assicuro continuò sim con trasporto che tutte le volte che un treno arriva in stazione mi sembra che si sia aperto la strada fra le batterie d'un assedio e che l'uomo abbia vinto una battaglia contro il caos lei dice con sprezzo che quando si lascia slon square si arriva alla stazione vittoria io dico che invece potrebbero capitare centinaia di cose e tutte le volte che ci arrivo per davvero ho l'impressione di essermela scapolata per un capello e quando vado il controllore gridare vittoria quella non è una parola priva di significato per me è il grido d'un araldo che annuncia una conquista è una vittoria vera e propria è la vittoria di adamo gregory abbozzò un lento e triste sorriso e tuttavia disse noi poeti formuleremo sempre la domanda e che cos'è questa stazione ora che ci siamo arrivati lei crede che la stazione vittoria sia come la nuova gerusalemme noi sappiamo che la nuova gerusalemme sarà soltanto come la stazione vittoria sì i poeti saranno insoddisfatti perfino in paradiso il poeta è sempre in rivolta appunto ribatte il suo avversario stizzito e che c'è di poetico in questo tanto varrebbe dire che è poetico il mal di mare anche il mal di mare è una rivolta tanto il mal di mare quanto il ribellarsi possono essere salutari in certi casi disperati ma che io sia impiccato se riesco a capire perché debbano essere poetici la rivolta in astratto è rivoltante non è altro che vomitare la ragazza trasalì a quell'antipatica parola ma il giovane era troppo riscaldato per badarle solo le cose che vanno come si deve sono poetiche esclamò la nostra digestione per esempio che si svolge a perfezione in silenzio come una cosa sacra e che è la base di tutta la poesia sì la cosa più poetica più poetica dei fiori più poetica delle stelle la cosa più poetica del mondo è di non avere il volto a stomaco a dir la verità osservò gregory altezzoso gli esempi che sceglie scusi tanto ribatte sim piccato avevo dimenticato che si erano abolite tutte le convenzioni un vivo rossore salì alla fronte di gregory lei non pretende mica proruppe che io rigetti la società su questo prato saim lo guardò fisso negli occhi e sorrise blando no rispose no certo ma credo che è proprio quello che farebbe un anarchico sul serio i grossi occhi bovini di gregory batterono come quelli di un leone irato e si sarebbe quasi creduto di vederlo rizzare la rossa criniera grazie a tutti